Continuiamo lo studio dei criteri di divisibilità, studiando quello di divisibilità per 9. Come sempre, scriviamo a sinistra alcuni multipli di 9 e notiamo subito cosa hanno in comune questi numeri. Quindi, partendo dalla tabellina del 9, notiamo subito che tutti i multipli di 9 che stanno nella tabellina hanno come somma delle cifre il numero 9. E questo lo sappiamo già a partire dai famosi trucchetti per imparare la tabellina del 9. Passiamo però ai numeri che vanno oltre la tabellina del 9 e andiamo a sommare le cifre. Quindi, a questo punto, deduciamo che un numero è divisibile per 9 se la tabellina del 9. La somma delle sue cifre è un multiplo di 9. E poi abbiamo visto che a sua volta le cifre sommate daranno 9. Ma questo non è necessario farlo, quindi basta semplicemente fare la somma e vedere che è un multiplo di 9. Vediamo, come sempre, qualche esempio. Multipli di 9 a 3 cifre, ad esempio 999, la somma delle cifre fa 27. 333, la somma delle cifre fa 9. 783, la somma delle cifre fa 18. Passiamo ai numeri a 4 cifre, ad esempio 9999, la somma delle sue cifre è 36. 3393, la somma delle sue cifre è 18. E così via per quanto riguarda i numeri a 5 e a 6 cifre. Nella prossima lezione studieremo il criterio di divisibilità per 11. Grazie a tutti.